Le parole di Janet Yellen piacciono ai mercati. Wall Street ha aperto positivamente sulla conferma della linea di politica monetaria già tracciata da Ben Bernanke. A rimorchio le borse europee, con Francoforte la migliore, che avanza di due punti percentuali. Guadagni sopra il punto percentuale anche per Milano, Madrid e Parigi. Spread BTP Bund più o meno stabile sulla linea dei 200 punti base, con il rendimento del decennale sotto il 3,7%. A Piazza Affari brilla il settore bancario, in particolare la popolare dell'Emilia Romagna. Secondo indiscrezioni, l'istituto starebbe negoziando la cessione di un portafoglio di mutui nel settore immobiliare. Indecisa controtendenza Saipem, dopo la pubblicazione dei dati preliminari, che hanno deluso le aspettative euro su dollaro stabile, sopra 1,3650.